da donna. Vogliamo farlo un pellegrinaggio questa mattina? Vi portiamo quasi al confine con la Svizzera. Val Vigezzo, ci aspetta la nostra Antonella Ventre. Sei pronta? Santuario della Madonna del Sangue. Sì Lucia, siamo entrati all'interno del Santuario della Madonna del Sangue. Pensate, questo santuario che voi vedete, moderno, è composto da tre chiese diverse. Tre questa è stata costruita in seguito agli avvenimenti della Madonna del Sangue, quindi alla testimonianza degli avvenimenti miracolosi della Madonna del Sangue. Siamo entrati in quella che è una delle tre chiese e ci aspettava don Giancarlo che è appunto il rettore del Santuario della Madonna del Sangue. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io stavo cercando di spiegare, ma lei lo spiegherà sicuramente meglio. Questa era la facciata esterna della chiesa di San Maurizio all'epoca, giusto? Qui in questo piccolo paese c'era una chiesa dedicata a San Maurizio. Il martirio di San Maurizio avvenne qua vicino, nel Vallese, che attualmente è in Svizzera, ma ecco, quindi per questo che c'era la chiesa dedicata a San Maurizio. Noi chiamiamo questa effigie adesso, ad oggi, la Madonna del Sangue, ma nasce, invece la possiamo ben vedere come Madonna del Latte. Certo, questa era una Madonna del Latte, una immagine molto diffusa nel 300 e nel 400. Questa immagine quindi era all'esterno. Spieghiamo cosa successe la sera del 29 aprile, giusto? Bene. Dove siamo noi, per capirci bene, era la piazza di questo piccolo villaggio. La sera del 29 aprile 1494, un uomo, Giovanni Zuccono, che tornava dal gioco, in un momento di rabbia scaglia una pietra e con quella pietra colpisce l'immagine della Madonna. Da quell'immagine, per ben 20 giorni, a intervalli, ci sono state delle effusioni di sangue. Il sangue colava da quel muro e scendeva fino a terra. Da lì però di strada ne abbiamo fatta, ne è passato di tempo, sono passati... Sono passati 523 anni. Che cosa hanno fatto? All'inizio del 600, davanti alla facciata, hanno costruito questa chiesa dove ci troviamo noi. Poi l'hanno congiunta con la prima chiesa. Quindi noi siamo a cavallo tra due chiese, una che è quella moderna, diciamo seconda, e una che era quella di San Maurizio che è alle spalle dove dopo noi andremo. E poi? E poi queste due chiese, sebbene unite, erano insufficienti ad accogliere tutti i pellegrini che venivano qua numerose da tutte queste zone, allora nel secolo scorso hanno pensato, hanno sentito l'esigenza di quella grande chiesa. Giancarlo, io la interrompo perché il tempo a disposizione per il momento è finito, però ci spostiamo alle spalle di questo muro perché è conservata, pensate, l'ampolla che custodisce ancora... come posso chiamarla? Ci sono alcuni pezzi di stoffa, di lino, con i quali nel 1494 avevano raccolto quel sangue, quindi ci sono queste... Non anticipi nulla? Ci sono queste reliquie, le vediamo tra poco, quindi per ora a Linea No Studio noi ci spostiamo per farvi vedere le reliquie. Grazie Antonella! Una storia tra l'altro ricca di simbologia, una Madonna venerata e invocata perché dia il latte alle donne, allora non c'era la nutrizione artificiale, quindi insomma soltanto il latte doveva esserci per i bambini e che poi lacrima sangue dopo essere stata... o meglio caccia proprio sangue dopo essere stata colpita da Manu Duomo. Don Gaetano, latte e sangue ci riportano in un certo senso anche all'anima di Maria? Ci portano innanzitutto alla maternità perché diciamo così il sangue è proprio segno della vita umana, scorre il sangue perché c'è vita, perché è il cuore che con il suo movimento fa scorrere il sangue per tutto il corpo e anche nella Bibbia la presenza del sangue, il sangue indica proprio la vita, quella linfa che scorre dentro di noi. Non a caso il Signore Gesù per dirci che io vi sto dando la mia vita istituisce appunto nel sangue l'eucaristia. Il latte è il nutrimento di cui i bambini hanno bisogno quando non sanno mangiare, quando non hanno i denti, non possono mangiare. Quindi il latte e il sangue ci riportano indubbiamente a Maria. Ed è bello poi quel bellissimo gesto del dare il latte, di allattare, è un gesto proprio umano, materno, materno. E la mamma allatta il bambino che ha bisogno proprio del cibo. Ma sappiamo bene che l'allattamento non avviene, non viene dato semplicemente il nutrimento, diremmo così, materiale. La madre con il desiderio di allattare nutre molto di più il figlio, con il suo desiderio di bene fa crescere il figlio con il suo affetto. E una mamma che è allattato, questo lo sa benissimo, sa bene che se allatta il figlio, che allattare il figlio non è semplicemente un atto materiale, ma è soprattutto un gesto di affetto, un gesto di amore. Don Gaetano, abbiamo visto l'immagine che tra l'altro è bellissima e che come ha spiegato molto bene Antonella e il suo ospite nel collegamento, è un'immagine che era un'immagine esterna, stava all'esterno, stava al di fuori, attaccata praticamente a delle mura. Quella è un'immagine bellissima, da punto di vista sempre simbolico. Racconta tanto, ci aiuti a capire che rappresentazione è. Racconta tanto, anche perché messa fuori dalla chiesa significa quasi un invito. Entra dentro perché verrai allattato anche tu. Se vieni dentro, se entri nella chiesa, il Signore stesso ti darà da mangiare, non soltanto qualcosa di materiale, ma soprattutto qualcosa che ti darà vita. Poi è molto interessante perché Maria, da un lato sorregge il figlio, dall'altro lato, se guardiamo bene, sorregge, ha in mano tre rose. Interessantissimo. Se torniamo esattamente all'immagine, benissimo. Ha in mano tre rose. E allora la rosa, anche per l'uomo medievale, aveva tanti significati. Innanzitutto, nella sua stessa composizione, nelle forme che i petali di rose riescono ad avere, mettono insieme il quadrato e il triangolo. Il triangolo è la figura di Dio. Il triangolo è tre, la Trinità è Dio. Il quattro è il numero dell'uomo. Perché l'uomo vitruviano, per esempio, è inserito all'interno del quadrato quattro sono i punti cardinali. Per gli uomini medievali questa simbologia delle forme era molto evocativa. Quindi significava la rosa, all'incontro tra Dio e l'uomo. Non solo, sono tre. Perché sono tre? Perché la rosa, tra l'altro, è segno di bellezza, viene regalata dagli innamorati, è segno di amore. Qual è il più grande gesto d'amore che Dio ha dato agli uomini attraverso Maria? Proprio il segno della sua verginità. Maria è vergine prima, durante e dopo il parto. Quindi questa mamma che allatta, in realtà, è la vergine. Quella vergine cantata dai profeti, eccola qua. E chi ci ha dato? Ce lo spiega il cartiglio che troviamo alla base della vergine Maria. C'è scritto, in braccio siede la sapienza, in braccio alla madre siede la sapienza. Questa vergine madre ha dato al mondo la sapienza. E qui si apre la Bibbia. Con la dovuta cautela. Bellissima questa spiegazione, tra l'altro, che fa capire anche quanto già allora fossero chiare le idee. Attenzione sulle verità di fede, per chi ci crede. La Chiesa è stata molto cauta, questo dobbiamo dirlo, nei confronti di questo che è un prodigio. Antonella ci ha parlato di reliquie. C'è un ennesimo elemento sul quale possiamo approfondire il discorso. Antonella, se sei pronta, noi siamo qui. Lucia, quello che state vedendo, grazie a Don Giancarlo, adesso si aprirà perché qui dentro è conservata la reliquia con cinque pezzetti, Don Giancarlo ce lo sta aprendo proprio in diretta, cinque pezzetti che hanno del telo che ha asciugato il sangue. Don Giancarlo, anzitutto grazie, ma soprattutto lei mi diceva che questo numero cinque ha un motivo particolare. Sì, anticamente queste reliquie erano molte di più, questi pezzi di stoffa, ma erano custoditi in un calice per quattro secoli e quindi il calice lo si apriva e probabilmente queste reliquie furono tagliuzzate e date a tanti personaggi, a tante persone devote. Ne rimangono attualmente. Il vescovo alla fine dell'ottocento volle invece che queste reliquie fossero custodite in un'ampolla di cristallo. Don Giancarlo, noi abbiamo parlato della devozione, ne abbiamo parlato in maniera un po' vaga. Questa devozione è una devozione doppia, se così vogliamo definirla, perché c'è la devozione alla Madonna del latte e quella alla Madonna del sangue che si fondono insieme. Sì, la devozione alla Madonna del sangue è stata la più diffusa, soprattutto all'estero si è molto diffusa la devozione alla Madonna del sangue, però questa immagine è stata venerata soprattutto nei primi tre secoli di esistenza del santuario proprio perché era l'immagine della Madonna del latte, quindi legata alla maternità e quindi tante persone sono venute quassù, poi vedremo anche di ex voto, sono venute quassù per invocare la protezione della Madonna riguardo della famiglia, della maternità e dell'allattamento in un tempo in cui l'allattamento era una condizione indispensabile perché un bimbo sopravvivesse. Per chiudere invece, volendo dare un messaggio della Madonna del sangue invece, quale possiamo dare come messaggio da lasciare alle persone che ci guardano da casa? Ecco, il messaggio molto evidente è questo, la Madonna fu colpita da un sasso, quindi un gesto sacrilego, la risposta del sangue invece è un gesto di amore, il sangue che bagna la nostra terra, il sangue che ci dice la partecipazione di Maria al mistero della redenzione. La ringrazio e voglio lasciarvi con l'immagine di questa reliquia proprio perché, come diceva Don Giancarlo, il sangue è anche il simbolo dell'amore che Maria ha dato per noi e immagino che è quello che stavate dicendo anche voi in studio. Quindi buona giornata con l'immagine della Madonna del sangue. Grazie Antonella, grazie davvero a questo santuario che ci ha aperto le porte stamattina. Don Gaetano, la chiesa è sempre molto cauta, anche in tempi recenti, insomma, si va con i piedi di piombo prima di parlare di prodigi. Anche in questo caso, nei secoli, sono state fatte tutta una serie di verifiche e le ultime qualche decennio fa, insomma. Quindi c'è sempre molta attenzione perché poi non si arrivi a dei fenomeni di idolatria che non hanno senso, soprattutto per chi si dice cristiano. E infatti, anche perché è quello che sta a cuore alla chiesa che l'evento, questo evento, questa sorta di rivelazione sia vera, che non si nasconda magari dietro ad un evento del genere, qualche situazione che può essere anche triste, incresciosa. Per cui la chiesa cerca innanzitutto di capire in che situazione ci troviamo. Addirittura ci sono state delle norme che già nel 1978 la congregazione per la dottrina della fede ha emanato perché i vescovi potessero avere proprio delle istruzioni su come fare e su come poter dire che questo evento è vero ed è possibile appunto per i fedeli stare a venerare queste immagini, queste situazioni. Quindi ogni qualvolta vi è un evento del genere, chiediamoci, il vescovo diocesano, il vescovo di quella zona, come si è espresso? Infatti queste istruzioni, queste norme, che poi sono state pubblicate nel 2011, ripeto, approvate già dal Papa Paolo VI, dal viato Paolo VI, parlavano innanzitutto di scoprire la verità. Cioè andiamo a vedere è vero questo prodigio, chi lo ha visto sta dicendo il vero, oppure si nascondono dietro delle possibilità di lucro, delle situazioni false insomma. E poi, quindi il dato scientifico innanzitutto, vediamo, è un dato che si può spiegare grazie alle conoscenze scientifiche che abbiamo. Il secondo dato è un dato di fede, cioè come questo evento ha cresciuto la fede di un popolo. Perché alla fine ci troviamo di fronte a degli eventi che sono, diremmo così, delle rivelazioni private, che significa rivelazioni private? La rivelazione pubblica che è per tutti è quella di nostro Signore, è davanti a quella noi siamo tenuti a prestare fede. Invece, per quanto riguarda queste rivelazioni, si dice che dobbiamo accoglierle con prudenza umana, che significa che uno è liberissimo di crederci o di non crederci. Infatti lascia la Chiesa la libertà assoluta. Brevemente, Don Gaetano, nel caso della Madonna del Soccorso, giusto 40 secondi, ci sono state delle verifiche attenti, addirittura strabilianti poi i risultati, perché insomma, il solco che questo sasso pensate avrebbe lasciato sull'immagine è qualcosa che lascia un momentino sgomenti, insomma, se non altro conferma pienamente i racconti dell'epoca che poi si sono tramandati. Già dall'epoca abbiamo testimonianze storiche di come il Vescovo e anche l'autorità civile abbia raccolto delle testimonianze che sono state poi ascoltate da notai dell'epoca. Anche in epoca recente ci sono state delle indagini. Questo ci fa capire l'importanza della comunità ecclesiale che dà questi eventi. Non li tiene sotto gamba così, ma pone importanza per il bene del popolo di Dio, per il bene di tutti che possano credere e soprattutto che possano attraverso anche questi eventi accrescere la loro fede. Il lino è stato confermato che era dell'epoca, il sangue, quella, avete visto, è impressionante quella garza imbevuta di sangue e si è dimostrato che è davvero sangue e poi ripetiamo questo solco quasi sulla fronte di Maria che è proprio esattamente delle dimensioni di questo sasso che la persona scaglia contro di lei. Sporna.